La dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità. Ne parliamo con il vicepresidente del Parco Nazionale, dell'eccellente Valodiano, l'avvocato Carrado Matera. Un risultato veramente molto molto importante, avvocato Matera. Ma certamente questo è un risultato decisamente importante per il territorio. La dieta mediterranea viene riconosciuta patrimonio dell'umanità. In tanti oggi ne rivendicano la paternità, ma a gran voce possiamo dire che la dieta mediterranea è nata nel Cilento, a Pioppi. È un'occasione decisamente di grande importanza, di grande sviluppo. Dobbiamo però essere bravi a cogliere questa grande occasione per immaginare davvero uno sviluppo territoriale serio. Io penso che però sia anche necessario e importante fare in modo che la dieta mediterranea venga poi praticata sul territorio. Allora per il prossimo anno dobbiamo essere pronti a fare in modo che anche le scuole, gli ospedali, tutti finiscano per praticare questa dieta mediterranea. Ed è un'occasione poi di grande sviluppo perché io penso che i nostri prodotti con la dieta mediterranea sono stati sicuramente riconosciuti come prodotti di serie A e potrebbe essere anche un'occasione di valorizzazione dei nostri prodotti. Intorno a questo evento poi bisogna immaginare una serie di azioni concrete che ne possano determinare anche una crescita del territorio. Questo evento possa determinare uno sviluppo territoriale importante.